Notizie recentissime per le discariche di Bussi. Perché dico le discariche? Perché a volte si fa confusione, si mette un po' tutto insieme, ma in realtà le situazioni sono molto differenziate con stadi di avanzamento dei lavori differenziati anche con proprietà diverse. Con il Sindaco Lagatta, prima di arrivare alle considerazioni che riguardano le news, facciamo un riassunto di come è la situazione che riguarda Bussi per le discariche ex Montedison. Diceva bene lei, a Bussi si parla sempre di discariche, in realtà le discariche sono più di una. Quella che ha fatto più notizie è la cosiddetta discarica dei veleni più grande Europa, la discarica ai tre mondi, che possiamo indicare in questo luogo. Poi è una discarica rimasta sempre di proprietà della Edison. La Edison da un anno ha iniziato a fare lavori di bonifica, ultimamente sta sperimentando il cosiddetto dissorbimento termico, cioè riscaldano il terreno per far evaporare eventuali rifiuti che ci sono sotto. Alla fine di questa sperimentazione che viene monitorata continuamente si provvederà a togliere tutti i rifiuti. Questa è zona stazione? Questa è la stazione, sì, zona Tremonti. Questo è il sito industriale, fino a quando arriviamo alle discariche 2A e 2B. La bonifica di queste discariche è stata vinta da una ditta che si chiama DECDEM. Qual è la novità di questi giorni? Che c'era un cronoprogramma che prevedeva di inizio ai lavori dalla 2A a 2B a partire dal 1 ottobre. Questo cronoprogramma si è interrotto. Stavamo valutando in questi giorni l'opportunità di fare altri ricorsi anche di tipo legale e ci è arrivata la notizia che era stato validato in modo definitivo il progetto della DECDEM. Questo significa che, come previsto, se ento dicembre vengono affidati i lavori alla DECDEM, immediatamente questa può iniziare. È chiaro che bisogna che il Ministero faccia un altro cronoprogramma, però siamo quasi alla fine della soluzione delle problematiche di bussi. È chiaro che se un terreno non viene bonificato, il terreno continua a rilasciare nel terreno, nelle falde acquifere, gli inquinanti che l'Arta trova. Si è perso tempo. Si è perso tempo in un luogo in cui, in modalità diverse e in quantità diverse, però l'inquinamento è ancora lì. Le quantità, le dimensioni di questo terreno contaminato sono talmente elevate che è ovvio che non è ipotizzabile che questi materiali, che questo terreno, possa perdere le proprie capacità tossiche e nocive in un batter d'occhio. Tutt'altro. Questo terreno ovviamente continua a mantenere in sé gli elementi inquinanti e poi ci sono dei fattori che potrebbero, ora noi stiamo verificando anche questo, far sì che l'inquinamento raggiunga anche le falde, anche attraverso l'opera della pioggia. Il mercurio è uno di quelle sostanze che a noi preoccupa maggiormente. Perché parlo del mercurio? Perché il mercurio, ad esempio, era stivato diversi anni fa, ovviamente da questo insediamento industriale, veniva stivato in delle vasche di cemento che poi sono state smantellate e i frutti della demolizione purtroppo sono tra i residui che sono stati smaltiti in modo illecito. Il mercurio qualche preoccupazione ce le dà al pari di altri metalli pesanti con analoghe caratteristiche di tossicità. Grazie.